Buonasera a tutti da Mr. Sky. Vi volevo solo tranquillizzare che il Natale l'ho passato tranquillo, sereno. Mi sto rilassando e sto preparando alcune cose un pochettino nuove che poi più là pubblicherò, farò dei video molto carini, molto divertenti. Quindi, momentaneamente non ho nessun aggiornamento da fare. Se volete sempre, volete commentare sotto, commentate oppure vi potete mettere ancora un piaccio. Oppure se vi va e vi piace il canale, siete liberi anche di iscriverti nel mio canale. Da parte di Mr. Sky vi riauguro un'altra volta un Felice Natale. Ci sentiamo un pochettino più là. Da parte di Mr. Sky è tutto. Bye bye.